E la ZTL in centro storico durante il periodo delle festività natalizie è il primo impegno del nuovo assessore della giunta termine. Alla prima esperienza politica dopo un anno e mezzo da consigliere comunale, Antonino Certa si trova ora a ricoprire il ruolo di assessore al patrimonio, manutenzione strade urbane, verde pubblica e polizia municipale. In quest'anno e mezzo effettivamente ho cercato di capire bene qual è la macchina amministrativa, ho cercato di stare accanto a tutti gli assessori e proprio capire le problematiche. Proprio per questo che so la complessità del ruolo e le problematiche che ne derivano, però farò il massimo per svolgere al meglio questo ruolo. L'ordinanza sulla ZTL in centro storico durante le festività natalizie è quasi pronta. Vi sarà una ZTL per il periodo natalizio che abbiamo pensato insieme all'amministrazione che si svolgerà nel periodo compreso tra l'8 dicembre e il 7 gennaio 2024 che riguarderà principalmente i fini di settimana, ovvero nei venerdì e sabato ci sarà appunto una ZTL che andrà dalle 16.30 alle 20.30 mentre nei giorni festivi, quindi domeniche e tutti i giorni festivi, sarà non solo quella pomeridiana ma ci sarà una nuova fascia mattutina di ZTL che è stata pensata dalle 10 alle 13.00. Nelle giornate del 22, 23, 25, 29 e 30 dicembre e 1 e 5 gennaio la ZTL rimarrà in vigore dalle 16.30 all'una di notte. Con la zona a traffico limitato scatteranno le manifestazioni in centro storico e saranno attivati i bus navetta. Ci saranno due tipi di servizio di bus navetta, il solito che partirà appunto da via delle Garaffe e il secondo sarà fondamentalmente un trenino elettrico che inizierà il suo percorso in zona viale delle Terme. L'assessore Antonino Certa conferma che l'obiettivo è quello di arrivare ad una progressiva pedonalizzazione del centro storico. L'idea generale per quanto riguarda la viabilità è quella sempre di cercare di arrivare a una chiusura totale del centro storico, però effettivamente per arrivare a ciò bisognerà cercare di aumentare tutti i servizi perché ovviamente non si può fare altrimenti, perché ovviamente se non ci sono i servizi adeguati non si può chiudere totalmente il centro.